Ma non sta diventando un po' troppo tecnologico con l'arco nudo? E' certo, però nel programma si significa la scienza dell'arco nudo. No, no, ma dico, ma dico, anche costantare qui, non si stravolge un po' il concetto di arco nudo, mettendo anche questa scomparsa, che le regolazioni... Allora, certo che sì, certo che sì, però adesso che parleremo anche un pochettino di parametri, non compete all'atleta, questa filosofia non compete all'atleta. L'atleta ha solo due cose da valutare. I regolamenti, essere eticamente sportivo all'interno dei regolamenti, senza riempirgli, e ovviamente senza, ancora di più, senza violarli, e fare i punti. Vincere nei regolamenti. Si studia i regolamenti e all'interno di questo regolamento cerca di fare i più punti possibili. Posso mettere la regola a caduta? Mi serve, metto la regola a caduta perché mi serve. Poi, la filosofia la lasciamo alla filosofia, qua. Contrano sui punti. Perché contrano sui punti? Perché questo si chiama sport. Si chiamasse andare a cogliere le margherite nei campi e possiamo fare tutto quello che vogliamo. Deglissimo. Anche a me piace vedere la parabola argentata della freccia che vola e raggiunge il centro dell'arcobaleno, poi vado a ritirare la sacca dei dobloni che trovo alla fine dell'arcobaleno. Il centro del centro del centro dell'arcobaleno è il centro del centro dell'arcobaleno. Anche qua lo facciamo velocemente, poi magari ve lo leggete bene, perché qua metto anche un po' di cose tecniche. Anche qua c'è differenze tra alluminio e carbonio. Quindi l'alluminio possiamo tenerlo un po' di meno, il carbonio è consigliato avere tutta la freccia fuori. Ovviamente prima dobbiamo bene allineare i nostri fluttenti. Quanto tu vai oltre gli standard? A me ogni tanto mi capitava quel compound che ero troppo dentro, troppo fuori. Cioè c'è un limite massimo. Ah, c'è queste due righe? Sta dentro quelle due righe? No, non questo, il center short. Al center short dovete fare attenzione alla freccia, per gli olimpici non è un problema. Cioè per dire... La freccia è lunga standard, no? La freccia è lunga standard, quindi pollice tre quarti, oltre il bottone, e quindi il center short è normale. Gli acchi nudi hanno tutte le frecce di tutte le lunghezze possibili e immaginabili. Quindi dobbiamo fare attenzione che ci sia un center short reale. Quello che voglio dire io, se ti aggrada la rosata, ma tu hai un center short di due frecce e mezzo fuori, ci tiri così? Certo che sì, funziona, sì. Abbiamo appena detto, l'ha detto anche Rick, non preoccupatevi del center short. Il center short è dovuto alla vostra forma di tiro. Quindi si parte, questo è un punto di partenza, e poi ci lavorate sopra. L'arco nudo può permettersi di fare tutte queste mazzurine. Poi gli olimpici, sai, sono molto più schematizzati. Gli olimpici, io li ho conosciuti anche, no? Ma anche gli istruttori, e loro... Non c'è niente da fare. Il tiller deve essere un ottavo negativo. Ma non è vero. Aspetta. Un ottavo. Un ottavo. Il punto di cocco deve essere un ottavo. Ma non è vero. No. Non ci si può schiodare da lì. Perché quello è venuto... Un giorno si è aperto il cielo con un raggio di luce, è venuto con una tavola di pietra scolpita, con un ottavo di tiller e un ottavo di crudo di po. E quindi quello deve essere per sempre. Tutti i secoli dei secoli, amen. Non sono tutti così. Però tanti sono così. Ok. Va bene, adesso l'ho fatta per ridere. Però tanti sono così. Tanti sono così. Tanti sono ancora di prima di me. Invece non è così. Lo strumento... Diciamo noi la variabile, no? Quindi lo strumento a me lo dobbiamo variare. Poi anche se sto facendo provare la spiegata, ti accorgi che non puoi essere bloccato su un ottavo. Ora proviamo a dividere la freccia in due sezioni. No, questo non ve lo leggete, perché... Poi parliamo anche di massa nella parte frontale, di freccia, ma è interessante da leggere. Anche sul center ciò che stiamo con la pubblicazione, così vi fate poi una coltura. Io lo metto nella vostra cartellina. Non parli di punti nodali per la lunghezza? Parliamo. Ma nel center ciò che non ce ne frega niente di punti nodali. Sì, sì, no. Anche quella di punti nodali è una cosa interessante se ne parliamo. Qua consigliamo sempre, al contrario, cosa ho detto, all'alluminio un diametro, quindi alluminio un pochino più fuori e il carbonio un po' meno. E qua montiamo la molla più morbida e vediamo un po' se il center shot è giusto. Qua parlo ancora del bottone di pressione, più o meno cosa ho detto prima. Ah, ecco, qua è interessante. Questo lì, così... Non me lo ricordavo più, ma... Sì, è che mi avevano già fatto questa domanda. Allora, a cosa serve il bottone di pressione? Nel senso di quali effetti abbia sulla freccia. Il bottone elastico è uno degli elementi dell'arco più complessi. Una delle teorie del passato che si ritrovano continuamente è l'idea che l'unico scopo del bottone sia quello di allineare la freccia dell'arco. Ancora adesso io lo leggo sui manuali. Leggo sui manuali che... Arrivo, arrivo! Sono andato a prendere una freccia. Allora, voi sapete benissimo che la freccia scodinzola, ok? L'avete visto in tutti i filmati. Allora, intanto scodinzola per un po' di effetti. Qua non ci sono neanche ripetute osservazioni. Ah no, anche c'è anche un modello matematico. Comunque, adesso lo faccio sul piano verticale, ma ovviamente sul piano risultale. Si muove per ventri e nodi in andamento sinusoidale, ok? Ventri e nodi. I ventri possono essere ad avere un massimo positivo, un massimo negativo e i nodi ovviamente sono sempre zero. Come un'onda sinusoidale. Se parlo troppo difficile, fermatevi. E scodinzola così, fino a che non arriva. Si pensava che il bottone... E ancora sta scritto sul manuale. E ancora persone qualificate pensano che sia così. Cioè che lo scopo del bottone sia che i due nodi siano allineati nel volo della freccia. Il bottone serve ad allineare il volo della freccia e quindi i due nodi verso il bersaglio. In modo che la freccia vada dentro. Questo è lo spine che lo fa. Non il bottone. Il bottone non cambia lo spine. Ok? Qua c'è un qui pro quo generato da... Qualcuno l'ha detto, qualcuno l'ha scritto, qualcuno l'ha letto. Qualcuno l'ha detto, qualcuno l'ha scritto, qualcuno l'ha letto. Ed è diventata la formula E uguale a MC quadro. E c'è qui. Che ancora lo dice, eh? Anche tuoi amici. Questa, si spero, solita no. L'idea era basata sull'intuizione che quando la freccia viene tirata, essa vibra e ha due nodi di vibrazione. E un arco messo a punto era quello in cui questi due nodi viaggiavano lungo il piano dell'arco. Un arco messo a punto, la freccia doveva lasciare l'arco con i nodi allineati nella direzione della traiettoria del tiro. E da questo risultava che la freccia viaggiava in un piano verticale su una traiettoria diretta verso il bersaglio. La funzione del posizionamento del center shot e della regolazione della durezza della molla del bottone era vista solo come il mezzo per allineare questi nodi durante il tiro. E a parte questo, il bottone non aveva nessun altro effetto sulla freccia. A mio parere le idee sopraesposte non hanno senso, ma esse sono diventate largamente diffute tra istruttori e arcieri. L'idea che il tuni serva da lineare i nodi della freccia con la sua direzione di volo, anche se comprensibile, meccanicamente non può avere successo. La nozione che l'unico uso del bottone fosse quella di allineare questi teorici nodi della freccia rispetto all'arco diede luogo a numerose teorie che potremmo definire solamente centriche. Una di queste fu quella di cercare di minimizzare ogni interazione tra la freccia e il bottone usando quindi il bottone solo per l'allineamento iniziale della freccia. venne suggerito che il nodo frontale della freccia dovesse essere posizionato in modo che la freccia flettesse intorno al bottone, cioè che la freccia scavalcasse il bottone. Il bottone veniva usato per l'allineamento iniziale della freccia, ma non c'era nessuna interazione non voluta fra bottone e freccia. Quindi ancora adesso si pensa che il bottone deva essere posizionato dove c'è il nodo. E tanti perdono tempo a capire dov'è il nodo della propria freccia per farlo combaggiare con il bottone. Avete sentito questa idea? Sì. Fantasia. Ultimamente ho sentito qualche cosa che dice che normalmente per i ragazzini che sono di crescita non occupiamo le frecce e gliele teniamo proprio a un quarto. Io normalmente le lascio fuori di tanto così per il clicker, no? Di tanto così e metto il clicker sul mirino, ovviamente, no? Perfetto. Ho sentito dire che il fatto di posizionare il clicker con questa distanza qui sul mirino fa variare l'allineamento dei nodi. Secondo me è... Quando ti dicono così, ti dici, per cortesia, qui dai il link alle pubblicazioni che hai letto su questa teoria che mi sei dicendo. Ma a me non mi sembra che possa succedere solo. No, me l'ha detto Tizio, me l'ha detto Mario, che è il mio cugino. Però è uno molto qualificato. Certo. Ma è semplicissimo, ma io posso sbagliare. Poi mi potete chiedere, ma te come le fai queste cose? Chiedetemelo e io mi rispondo. Come è la mia stessa? Ad esempio. Per sperimentazione. Tranquilamente. No, no, no. Mi rispondo a me. Allora, basta chiedere a queste persone, per favore, vi dai documentazione. Oppure vi dai i tuoi titoli. Sei ingegnere meccanico aeronautico e hai... Fammi vedere le tue pubblicazioni. Se hai le capacità di aver fatto delle pubblicazioni tu stesso. Oppure mi dai i link delle pubblicazioni, che dicono il contrario. Io vi do il link di chi ha fatto... Di un ingegnere meccanico, anzi addirittura di un ingegnere in fluido-meccanica, che ha fatto queste sperimentazioni. E per esempio, la maggior parte, probabilmente già lo conosce, è Joe Tapley. E Joe Tapley è un grande teorico, è l'unico grande teorico che abbiamo sul volo della freccia. E ha un suo sito, che è tradotto il meccanismo di funzionamento del volo della freccia. E poi ha fatto... Sta tentando di fare dei modelli matematici sul volo della freccia. Ecco, questa è scienza. No, fantascienza. Questa è scienza. La cosa più efficiente comunque è che il bottone, una volta che ho avuto la freccia, lavori sulla prima pancia, sulla prima piega della freccia. Il bottone serve per un cattivo rilascio. Ad attutire i problemi di un cattivo rilascio. Il bottone puoi anche non metterlo. Non serve il bottone per la precisione della freccia. Se il tuo rilascio è perfetto, il compagno ha un bottone. Ma anche la tua scuola come non c'è l'altro. Ma neanche gli anche tradizionali hanno il bottone. Se la freccia è perfetta, il tuo rilascio è perfetto, non hai bisogno del bottone. Il bottone serve, se te hai un rilascio, attutisce quel tanto che basta da portarlo in un range attendente. A no allargare il range dell'errore. Solo ed è studiato la metà. Mettilo dove vuoi. Restiamo anche su questo. Però se io monto una freccia troppo lunga, sposto la curva della freccia più avanti, quindi perdo l'efficacia del bottone. Perdo un pochettino di efficacia del bottone, ma solo da ripetute osservazioni, questa perdita si ha da 50 metri in avanti. Un cambio di rosata si ha da 50 metri in avanti. E si può ovviare a questa perdita utilizzando, ad esempio, frecce alluminio carbonio. Si è minimizzato, frecce barillate, si è minimizzato tanto questo problema. Ok, perché credo che quello che ieri è stato detto lui sia stato pensato nell'ottica di faccio una freccia troppo lunga, la pancia della freccia si sposta in avanti, non in tanti noti, ma la pancia della freccia si sposta in avanti. Tutto quello che dici te è assolutamente giusto, ma non vale per l'arco nudo. Stiamo parlando di arco nudo. L'arco nudo è meglio che non ne tenga conto di questo perché ha dei problemi molto più grandi a monte. Quindi a me serve avere una freccia in spine, anche con 20 centimetri che mi escono, il nodo sarà un nodo cattivo, farà una pancia tipo la mia, ma sarà sempre meno che non avere una freccia in spine. Dinamico per quello che mi serve. Quindi è molto meglio avere, perché io so, da ripetute osservazioni, sperimentali, che tutto si complica da 50 metri avanti, ma io non devo tirare altri 50 metri. E quindi posso utilizzare il mio materiale per l'arco nudo con più facilità, perché gli errori che commetto sono da un'altra parte. Quindi non andiamo a cercare peli dove non si interessa conoscerli. Stranamente, tanto per finire il disforzo, stranamente, nessuno suggeriva il modo ovvio per ottenere perfettamente questo effetto. sarebbe stato usato era tirare come destro un arcomancino e non avremmo avuto nessun problema, perché il paradosso dell'arciera l'avremmo avuto al contrario. Il bottone sarebbe stato usato per l'allenamento della freccia, ma siccome la freccia si sarebbe piegata allontanandosi dal bottone, non ci sarebbe stata nessuna possibilità di interazione tra ciò. Una nozione simile fu l'idea di sostituire anche questa. Ogni tanto gira anche questa. Io ogni tanto lo vedo. Lo vedo sto manualetto che... Q410. Tutti ce l'hanno letto. Q410. Vedete? Un'altra cagata. Questa però, ve l'ha detto Rick, però... Sapete che ha inventato questo Q410? Rick Stonebreaker. Che non ha mai tirato in vita solo con l'olipo. Com'è che si scrive? Tune for 10. Quindi, setup messo a punto per il 10. Se l'ha tradotto, Vittorio Fragilio. E da qualche parte esiste. Però, come ti dico qua, una nozione simile fu l'idea di sostituire la mola del bottone con un fiammifero e settare il bottone per avere un setup a 0. siccome una qualsiasi interazione freccia-bottone sarebbe stata amplificata senza la molla, si sarebbe potuto regolare i bracci dell'arco in modo da variare il comportamento della freccia per ottenere un perfetto allineamento naturale dei due nodi. Perfetto. Perfetto. inserite in varie guide per il tuning, ci sono ancora arcieri che ci perdono il proprio tempo. In conclusione, non abbiate timore nell'arco nudo di usare il bottone di pressione come un vero e proprio mirino. per lo meno per quanto concerne in destra e sinistra. Un prossimo articolo vabbè, poi ne parlerò. Ne abbiamo già parlato. perché possiamo regolare qualcuno ha mozzato l'arco? Tiro, vado a destra, giro di bottone, chiudo il bottone. Giro, vado a sinistra, no, uno scatolo, un bel giro. Ok? No, estemporaneamente, ovviamente, perché ovviamente io ho fatto la messa a punto e tutte le frecce andavano in giallo. Sono in gara e i tiri di prova vanno tutte a sinistra. Che cosa faccio? No, sposto la testa, algo la mano, metto dentro la mano. Giro il bottone. Perché giro il bottone? Perché vanno a destra. Perché vanno a destra? Perché è cambiato semplicemente lo spine dinamico. Lo spine dinamico è variato. Come si fa a mettere a punto l'arco con uno spine dinamico variato? Si modifica il bottone. in modo molto semplice. Nessun arco nudo al mondo ha chiuso questa vite. Chi chiude quella vite è grazie. E devo ringraziare anche i coci che dicono di non toccare il bottone. grazie al coci che dite di non toccare il bottone. Da parte di Bertone. Quindi tranquillamente potete asbore. Perché se le frecce vanno a destra e sinistra e la messa allora intendiamoci tanto per intenderci se la nostra rosata è così le frecce vanno a destra sinistra alte basse quindi non lo so perché vanno a destra e sinistra alte basse perché la mia tecnica non è raffinata per avere una rosata quindi il problema non si pone. Sono una serie di buona capacità e cioè quando tiro torno al rosso e va bene dai un serio ogni tanto lo faccio lo faccio pure io alle volte mi scappa la presa però normalmente la mia rosata è nel rosso quindi ho una discreta rosata di 100.000 se la mia rosata nelle tiri di prova di gara sono a sinistra a destra e do un giro di bottone subito immediatamente perché ripeto sono andato a sinistra perché quel giorno lì luce patelletta la moglie che non voleva farmi andare a fare la gara la macchina che ne so mille problemi hanno fatto variare il mio tiro hanno fatto variare la mia testa e quindi è cambiato lo spagnolo e quindi do un giro di bottone molto semplicemente talmente semplice che pensare in maniera diversa boh non lo so perché non lo so certe cose non le so perché grazie per l'attenzione certo arrivo la lancio un altro e arrivo quindi la prima regolazione viene fatta in base l'infra giusto quella 8-10 e dopo di che viene fatta la fine come in parla la boccia di cosa stiamo parlando scusate sempre il bottone la prima regolazione la fa in base l'infra seguendo quella 8-10 sì certo ok ieri abbiamo visto metto la mola morbida metto la mola morbida la metto a metà e poi comincio a tirare le mie frecce e ruoto il bottone se la mia freccia se ho indovinato lo spine la mia freccia si sposta immediatamente e la faccio andare nel giallo ruotando il bottone con la mola morbida dopodichè comincio la messa a punto non tanto opportuno cioè allontanando la zentacione no 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 la molla caricando scaricando la molla e poi comincio la messa a punto se sono una serie di non buona qualità non faccio inizio metto la molla a metà e tiro la paglia e poi vedo un po' il colabbrodo un po' dappertutto rispetto al centro a destra a sinistra poi se sono media capacità che più o meno ci prendono mi metto a 15 metri no a 18 mi metto vicino a 15 metri e sposto la rosata lavorando sulla molla lavorando sulla molla per adesso mi accontento alla molla il bottone il center short l'ho messo un pochettino a destra un pochettino a sinistra per arcieri destri e da lì non mi schiodo un pochettino poi lavorerò sul center short poi fuori perché il center short mi servirà poi per calibrare da 5 a 50 metri mi metto a 15 metri e regolo il bottone da centrarmi la mia rosata ho centrato la mia rosata benissimo se la freccia già si è spostata già sono a buon punto perché vuol dire che la freccia ce l'ho in spagna ora tiro le spennate prendo 3 o 4 spennate e le tiro e vedo dove vanno a finire dove vanno a finire almeno 3 o 4 io non voglio più vedere tirare una spennata io posso fare io solo io e qualcun altro può tirare una spennata non siamo gli olimpici noi gli archi nudi almeno 4 spennate le dovete tirare per vedere la rosata delle spennate la rosata delle spennate potete tirare una freccia impennata e poi 4 più torte meglio eh? e anche gli lindici sono spennate anche gli lindici e ci si usano frecce con terrestre sì certo ma per la frecce lato possono avere anche 50 punti spalli poi l'olimpio che se ne accorgia subito l'alcoludo ovviamente no non se ne accorgia subito e vedete doveva finire questa rosata cominciamo e così cominciate a fare tutto quello che dovete fare cominciamo col punto di cocco vediamo che succede se è ancora morbida se è ancora rigida se è al sinistro se è al sinistro se è al sinistro cerchiamo di mettere insieme non ci perdiamo troppo se le spennate sono nell'otto sono nel rosso va bene lo stesso per il momento va bene se siamo di buona capacità è logico che la spennata se è andata e basta io tiro la spennata a 50 metri anche tutto tutta freccia spennata però questo si può fare un po' più avanti quando usavo l'anno scorso l'anno scorso sì l'anno scorso che usavo non l'avessi mai lasciato queste 21 13 che le ho regalate e mi sono pegolato nelle 22 12 io tiravo in allenamento solo frecce spennate 12 frecce spennate ad un certo metri stop solo spennate manco di pennate perché le rompevo le rovinavo le alette e quindi le alette le tenevo quando contavo i punti se no solo chiaro le usate non sono super chiuse però le errori è condividibile a me il minimo errore ovviamente la freccia non fatelo perché non ha senso si fa per non ha senso non ha senso non ha senso